Attilio Cubeddu, 66 anni, latitante da 26, appartenente all'anonima Sarda, tra i sequestratori di Giuseppe Soffiantini. Renato Cinquegranella, napoletano di 74 anni, latitante da 21, camorrista affiliato alla vecchia guardia in guerra con la nuova camorra organizzata fondata da Raffaele Cutolo. Giovanni Motisi, palermitano di 64 anni, ricercato dal 1998, ritenuto tra gli uomini più potenti di Cosa Nostra e tra gli organizzatori dell'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Pasquale Bonavotta, andranghetista del clan di Santo Nofrio, 49 anni, latitante da 6. Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro sono questi quattro uomini più ricercati, inseriti nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità. Nei loro confronti sono stati spiccati ordini di cattura internazionale, ma le ricerche sono concentrate soprattutto in Italia e più in particolare nelle terre di origine di ciascuno, seppure non sfuggono tracce della loro presenza, del loro passaggio e di appoggi anche altrove. In Toscana, per esempio, è il caso di Attilio Cubeddu, arrestato e condannato per diversi sequestri di persona, tra i quali quello di Giuseppe Soffiantini nel 1997, tenuto nascosto nelle grotte della Calvana sopra Prato, prima che nelle campagne tra Siene e Grosseto. Cubeddu era già latitante allora, dopo un permesso per buona condotta, non fece ritorno nel carcere di Nuoro, dove stava scontando 30 anni. Cubeddu, come ricostruirono le indagini, fu il custode di Soffiantini e come Giovanni Farina, l'altro sequestratore, arrestato poi in Australia, che conosceva a memoria la Calvana per aver a lungo vissuto a Prato, dove mise sua anche famiglia, Cubeddu sapeva muoversi nei fitti boschi pratesi. Due le ipotesi sul suo conto, ricco latitanti all'estero oppure cadavere, ucciso da Farina per una lite sulla spartizione del riscatto Soffiantini. Negli anni la Toscana è stata terra di latitanti. Nel 2004 si scoprì che il boss della Camorra, Stanislao Marigliano, aveva trovato ospitalità a Montecatini, città nella quale fu poi arrestato. In una indagine furono ricostruiti contatti tra Marigliano, il clan Formicola e un albergatore, a cui nel 2020 sono stati confiscati beni per 10 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze. Da Montecatini a Prato, dove parlando di latitanze ma sganciandosi da logiche nazionali, vale la pena ricordare quella di Domenico Maria Piccolo, calabrese condannato per pedofilia, allenatore della squadra di pallavolo di Vaiano, nel 2005 fu arrestato per abusi su due bambine. Fu scarcerato prima della sentenza definitiva e si rese latitante. A scovarlo, nel 2015, nelle Filippine, fu la squadra mobile di Prato, diretta allora dall'attuale numero uno della DIA di Firenze, Francesco Nannucci.